E allora buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti, iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti, condividete il video con tutti i tifosi che conoscete, devastatelo di mi piace, guardatevi i video fatti, abbiamo fatto il commento alla Champions, la live di lunedì, recuperate tutto, stasera ci becchiamo l'Inter e poi domani sarà già tempo di Fiorentina in conference. Allora, partiamo dalla situazione degli esoneri impreventivati, oserei dire perché aprono degli scenari interessanti, partirei da quello del Bologna, perché dico impreventivati? Perché onestamente questo è un esonero che veramente non capisco, quello di Mihailovic, Cioè, posto che comunque, per carità, non è che gli ultimi anni siano stati esaltanti, non è stata una rosa che ha particolarmente overperformato per ragioni tecniche, per carità di Dio, ma non mi sembra neanche una rosa con chissà quali velleità. Cioè, veramente, specialmente dopo un'estate nella quale comunque hai ceduto dei pezzi importanti, perché sono andati via Svanberg, sono andati via Ike, sono andati via Teatre per un sacco di soldi, quindi insomma, deve esserci anche un tempo tecnico, credo io, per andare a inserire i nuovi. Esoneri un allenatore con un carattere di urgenzialità, sembra quasi rispetto al rendimento della rosa, che veramente non capisco, perché a me il Bologna sembra assolutamente una squadra da undicesimo posto, dodicesimo posto, tredicesimo posto, non so che tipo di aspettative, che tipo di obiettivi, che tipo di velleità si abbiano con questa rosa, ma per quel che mi riguarda erano tutti obiettivi e velleità massime già raggiunte sempre puntualmente negli scorsi anni e ancora capaci di essere raggiunte con Mihailovic, quindi una scelta anche abbastanza antipatica. Poi per carità posso anche comprendere che si fosse arrivati magari ad un momento di stanca, alla fine di un ciclo, però comunque il rendimento non è mai stato al di sotto di quello che era il valore della rosa e anche in questo inizio di campionato per me era assolutamente poi risolvibile col tempo e arrivabile, come poi arrivato tutti gli anni scorsi, a quello che era lo zenith della squadra, quindi è una scelta anche antipatica secondo me, anche perché ripeto, se il discorso era relativo ad una progettualità arrivata a fine ciclo, ad un fine percorso avevi assolutamente il tempo di fare le cose anche meglio quest'estate secondo me, se volevi cambiare allenatore lo facevi quest'estate banalmente, adesso bisognerà vedere chi arriverà, però anche qui sento parlare di Ranieri, ora, con tutto il rispetto Ranieri è un ottimo allenatore per farti rendere magari soprattutto a breve e medio termine delle squadre che sono in una situazione di difficoltà, semplificando, andando a razionalizzare, però per una squadra come il Bologna, anche lì, nel momento in cui io voglio fare le cose con sguardo al futuro, dando magari un'idea di calcio un po' più nuova, un po' più valorizzante, posto che, ripeto, la squadra secondo me, cioè non è che stiamo parlando di una squadra che ha sottoperformato o via dicendo, e che in estate ha anche ceduto, non capirei molto il fatto di andare su Ranieri, su Ranieri ci può andare magari una Sampdoria che si trova invischiata nella lotta a retrocessione e ha bisogno di uno starter, una squadra come il Bologna avrebbe già più senso, ecco, se devo calarmi nella situazione, l'andare su un valorizzatore, per esempio, un termovalorizzatore alla Thiago Motta, alla De Zerbi, anche un Andrea Zoli avrebbe più senso, però onestamente è una cosa che mi coinvolge fino a lì, perché, ripeto, considero l'esonero ingiusto, per quanto, per carità, Mijailovic non sia magari tra i miei tecnici a livello calcistico preferiti, non sia nel mio Pantheon, però penso che sia stato veramente una scelta incomprensibile, specialmente guardando il livello della squadra, che non mi sembra modestamente, poi magari sbaglierò io, ma non mi sembra una rosa da Europa o da particolari pindarismi. Poi veniamo ad un altro esonero, quello un po' più impreventivato, di Tuchel dal Chelsea. Ma allora, io qui penso conti anche un'area di cambio che c'è stata all'arrivo della nuova proprietà, però anche questo è un esonero onestamente che sta destando scalpore, una decisione che sta destando scalpore, perché, per carità, è vero che l'inizio di stagione non è stato al top, però è una stagione nella quale il Chelsea era ed è ampiamente in corsa su tutto, è una squadra che ha fatto anche delle buone, buonissime gare, anche l'ultima vinta in campionato, penso al pari con il Tottenham. È una squadra che ha fatto un mercato importante a livello economico, ma che a me, ma anche ad altri, non è piaciuto a livello tecnico, c'è un mercato abbastanza basato su spese anche folli, penso ai soldi spesi su Fofanà, penso all'acquisto di Sterling, tante operazioni molto al sapore di figurina, quando al di là di una difesa da rifare anche numericamente, le operazioni potevano essere meno, ma essere fatte in modo più intelligente. Penso ad un Chelsea che avesse fatto anche banalmente solo due operazioni, quella di un De Ligt in difesa al posto di un Colibali che continua a ritenere inadatto per i ritmi che ci sono in Premier, penso ad un Cristiano Ronaldo che più di Sterling e anche a meno costo ad oggi può aiutarti a dare anche quell'esperienza, quella chiusura vincente di cui il Chelsea aveva bisogno, quindi un mercato che non mi è piaciuto molto, piuttosto raffazzonato, fatto dalla nuova proprietà e questo esonero è arrivato un po' a sorpresa poi per un allenatore che solo l'anno scorso ti ha fatto vincere il Mondiale per Club, ti ha fatto vincere la Supercoppa Europea, un allenatore che ti aveva fatto vincere la Champions in finale con Guardiola contro il Manchester City, quindi secondo me un esonero abbastanza anche questo per tempistiche e per modi abbastanza criticabili. Detto che comunque le perplessità sul mercato del Chelsea ce le ho anch'io, non è una squadra che mi pare aver operato in modo molto funzionale, adesso bisognerà vedere anche chi arriverà, perché non mi sembra che il mercato allenatore di grido abbia particolari fomenti, abbia particolari situazioni, però questa è anche una cosa che apre, signori, apre un percorso e delle possibilità particolari per delle squadre italiane, perché come vi ho sempre detto io il signor Tuchel, il signor Tuchel l'avrei visto bene per una squadra italiana e questa squadra italiana è la Juventus, ci sono due squadre come Juventus e Inter che hanno situazioni non solo presenti di allenatori da valutare un po' sulla graticola e via dicendo, ma anche a medio e lungo termine e vi dico anche come, perché se all'Inter le cose dovessero essere messe male e se ci fosse una sfiducia nei confronti di Inzaghi, se dovesse aprirsi un crepaccio, io ho un percorso per l'Inter e ce l'ho anche per la Juve se altrettanto le cose dovessero essere male, anche se mi sembrano piazza nelle quali l'esonero stagione in corso, è già più difficile da valutare e vedersi, però non si sa mai nella vita e vi vado a dare barra ribadire, dare barra ribadire le mie soluzioni. Parliamo dell'Inter, se le cose dovessero mettersi male, penso anche, penso anche magari da qui alla sosta, penso da qui a qualche settimana, io ve la do la ricetta ragazzi e nei commenti scrivetemi cosa ne pensate. C'è uno Stankovic libero, c'è uno Stankovic libero che potrebbe fare il traghettatore, tu lo prendi, lo provi, vedi come può performare, vai anche secondo me ad accontentare quella parte di tifo a cui piace il condottiero, diciamo a cui piace l'allenatore di polso, a cui piace l'interista tradizionale, e intanto ti fai un bello Stankovic traghettatore da mettere alla prova. Se vedi che Stankovic non è ancora pronto, e non puoi affidarti a lui per la stagione che poi arriva, il nome sullo sfondo è quello di Maurizio Sarri, ma un'ipotesi concreta ve la do io, signori. Igor Tudor. Igor Tudor all'Inter, l'anno prossimo. Ex Juve come Conte, che vai a dare un po' quella sensazione di biciclette rubate al prossimo, capito, che gli fai lo sgarbo, dipenderti un simbolo della tua rivale. Allenatore che coniuga solidità difensiva a proposta offensiva. 3-4-2-1. Allenatore di grinta, con le spalle larghe e giovane, adatto anche ad una progettualità valorizzativa. Giocatore e personaggio che ha gravitato già nelle grandi piazze. Quindi riflettete su questa cosa di Tudor all'Inter. Traghettatore Stankovic e Tudor dall'anno prossimo, con sullo sfondo sempre la suggestione Sarri. Per la Juve situazione simile. Se le cose con Allegri si mettono male, anche se non è che stiano andando propriamente bene, un traghettatore qualsiasi, ok? Qui non ho una figura particolare come quella di Stankovic all'Inter, ma può essere un Landucci che ti finisce la stagione, un Montero che viene chiamato dalla primavera con Zauli, che torna ad allenare i giovani, o un Gianni Bianco, perché no? Gianni Bianco traghettatore con alto rischio di triplete e a fine anno, ok, sicuramente è sempre presente la suggestione Gasperini, come abbiamo detto quest'estate, ma magari proprio Tuchel. Magari proprio Tuchel. Una Juve che ha proprio adesso, con questo esonero, ha la possibilità di iniziare, tra qualche mese, ma non tanto, a buttare già il futuro, a buttare già giù le idee, per un Tuchelismo in Italia, per un Tuchelismo in Italia. E fai anche la figura dell'importatore di idee, del modernizzatore, diciamo, della squadra che ti va a prendere l'allenatore che era in Premier, di scuola tedesca, straniero, che ti porta avanti, magari con qualcosa di innovativo, il tanto in ritardo, sistema calcio italiano. Quindi due situazioni simili, Juve e Inter. Traghettatore Stankovic, suggestione Sarri, ma forte ipotesi, Tudor per l'Inter. Traghettatore Montero, Landucci, Gianni Bianco per la Juve, suggestione Gasperini, idea forte, Tuchel. Fermati un secondo e pensa. Fermati un secondo e pensa. Quindi, di questi allenatori abbiamo parlato, veniamo alla Fiorentina, e la devastante conferenza stampa di commisso ieri. Allora, io ieri ho visto il video di Leonardo Andrini, sulla questione che saluto, video che ho molto condiviso e che vi invito a vedere, perché ha detto cose molto intelligenti, in cui mi ci ritrovo pienamente. E se devo dirla mia, anche in aggiunta a quel video lì, che ha già detto molto, vi dico che ho sicuramente apprezzato il passaggio su Biraghi, che ha oggettivamente gasato quando si è messo a difendere il capo, con le sue statistiche Kikest. Biraghi è il primo uomo su Kikest, per passaggi chiave, ma soprattutto precisione dei cross. Soltanto famigerata precisione dei cross, non sa crossare il primo in Serie A per cross riusciti, statistica Kikest 22-23. Si è messo dietro giocatori del calibro di Dybala, Pellegrini, sia nella precisione che nei passaggi chiave. Biraghi è della Fiorentina, non un giocatore del Milan, del Napoli. Biraghi è della Fiorentina, che è undicesima, primo in entrambe le voci. Così, tanto per dire. Quindi ho fatto benissimo a citarlo. Sul resto, vi devo dire che, al di là delle polemiche con i giornali, le critiche, che voglio dire, secondo me, un presidente di una società di calcio, se si sta lì a vedere i commenti dei tifosi, sui blog, su ogni minima pagina, rischi veramente, come abbiamo già detto tante volte, di non uscirne più. Io mi immagino uno Zango, un Agnelli, un Elliot, che andavano, vanno a leggersi i commenti di tutti i tifosi sui blog, cioè, ne escono pazzi, veramente. Quindi, quella è una cosa che, secondo me, sbaglia lui a fare, ad incapponirsi col parere medio, anche del tifo. Voglio dire, fregatene, cioè, vai per la tua strada, se hai un'idea, un progetto, lo valuti sul lungo percorso, e le critiche venemenziali che ci sono in mezzo, te ne sbatti, te ne sbatti allegramente, perché poi tu sei su un livello superiore, tu sei il decisore, quindi devi tu imporre la strada, il tifoso per strada critica, ci sta, fa parte del dibattito, ma nessun presidente di Serie A, e di altro, si sta lì ad incapponire, se non presidenti di realtà piccolissime, nelle quali il calcio si fa al bar, e si decide, ma non è il caso della Fiorentina. Poi, la sensazione che ho io, ma questo ve l'ho già detto, è che l'approccio di commisso sia sempre molto economico, cioè anche per esempio sul fatto Vlaovic, lui ti dice, è stata un'ottima operazione, dal punto di vista economico, se tu l'analizzi solo da quello, sicuramente, così come quando cita il Milan e dice, ma il Milan ha perso che sì, Donnarumma a zero, io ci ho fatto 75 milioni. Dal punto di vista economico è verissimo, però se guardo dal punto di vista tecnico, per esempio il Milan ha lasciato andare degli svincolati, ci ha vinto lo scudetto, tenendoseli fino a fine anno, quando era il percorso, così come dal punto di vista tecnico, cioè la differenza tra l'approccio economico di commisso, e la valutazione tecnica, la si può fare anche su Torreira. se uno vede il destino di Torreira a fine mercato, dice, a me chiedevano 15, è andato lì per 5, ho fatto l'affare io, a parte che io per il Torreira dell'anno scorso, non avrei dato 15 milioni, ma gliene avrei dati anche 20, 25, se mi chiedevano, perché era di un'importanza fondamentale, secondo me, ma anche lì mi sembra che l'approccio sia soprattutto economico il suo, cioè lui valuta la gestionalità della Fiorentina, sempre e soprattutto da un punto di vista economico, di conti, di convenienza nell'operazione economica, e il lato tecnico resta sempre un po' difficile da andare a discutere, resta un po' in secondo piano. Anche il fatto di Amrabat, Amrabat adesso vale di più, perché Torreira non se n'è andato, e Amrabat adesso gioca lui titolare, ma da un punto di vista tecnico, il discorso era quello che vi facevo io anche l'anno scorso, c'erano ugualmente due giocatori importanti, forti, che anche per una visione che mai ho condiviso del tecnico, dovevano giocare assieme, e come vi dicevo quest'estate, se anche l'italiano li avesse fatti giocare assieme, probabilmente l'importanza di entrambi sarebbe stata chiara a tutti, in primis anche magari al presidente, e staremo a discutere di altro, e staremo a discutere di altro magari, quindi a me pare che quando si parla di queste conferenze, di commisso inerenti alla Fiorentina, il lato economico sia sempre molto preponderante, per certi versi, se uno ha una logica esclusivamente monetaria nella gestione della Fiorentina, è anche condivisibile, perché come vi ho detto, vi ho sempre detto, anche i tempi della Valle, la Fiorentina ha una sua dimensione di fatturato, che le rende difficili certi pindarismi, poi però dal punto di vista tecnico, dal punto di vista anche della comunicazione, con la piazza, con i giornali, vedo delle gestioni che non condivido, cioè vedo uno stare ad impernearsi sulle critiche, sulle valutazioni dei giornali, secondo me anche eccessive, perché poi vi dico, io vedo anche altre piazze, cioè il dibattito in piazze, come Inter, come Juventus, come in tutte le altre parti, ma è molto più salace, rispetto a quanto fatto a Firenze, cioè c'è sempre questa idea, che a Firenze ci siano i giornalisti, che ce l'hanno con la squadra, che parla male, per carità alcuni accanimenti, hanno fatto girare le palle anche a me negli anni, va detto, sia su dei giocatori, che su certi componenti, su certi aspetti, ma Firenze si sa, Firenze è anche una piazza molto salace, molto divisa, molto divisiva di per sé, se uno si perde dietro ai rivoli di sta natura qui, non ne esce più, ne esce pazzo, capito? Specie se lo fa qualcuno, che poi si ritrova a dirigere la società, e non mi pare comunque, che l'ambiente sia particolarmente devastante, voglio dire, cioè non è che vedo giornalisti, che sono lì ad aspettare, per andare contro la squadra, o per devastare, si fanno delle valutazioni, si fanno delle riflessioni, riflessioni, ma non mi sembra mai che si trascenda, ecco, quando vedo il giornalismo fiorentino, poi si può essere d'accordo o meno sul contenuto, su alcune cose, anch'io spesso sono stato contrario, sono contrario spesso a certa umoralità, nei giudizi, però anche qui è un'umoralità, perché se è vero che dopo le sconfitte, dopo certe situazioni negative, spesso c'è del disfattismo eccessivo, è anche vero però, che tutto sommato non ho visto sta cosa, trascendere a livelli inaccettabili, ed è anche vero che, esiste anche la cosa contraria, cioè che alla minima vittoria, al minimo pari, alla minima prestazione positiva di un giocatore, c'è subito l'esaltazione, molto esagerata spesso, quindi ecco, penso che ci sia un clima esagerato, rispetto a quello che è la situazione della piazza, anche a livello di critica, discorso tecnico, sono d'accordissimo su Biraghi, che come vi ho sempre detto, soffre di un accanimento senza senso, alla luce anche dei numeri dell'importanza, soffriva, perché oggi poi la situazione va detto anche cambiata, però poi su tante altre questioni, vedo sempre prevalere l'aspetto economico, sulle valutazioni tecniche, come su Torreira per esempio, io non sono assolutamente d'accordo con quanto detto, secondo me era un giocatore da andare a riscattare, anche a quelle cifre, era un giocatore che aveva dimostrato il suo valore, è un giocatore che secondo me già da quest'anno, inizia a percepire, nessuno vede le partite, l'assenza e l'importanza che ricopriva, specie nello sbloccare certe situazioni, quando giochi con squadre piccole, quando giochi con club che si chiudono, che si asserragliano, noi l'anno scorso abbiamo vinto tante partite, grazie a Torreira, in Europa siamo andati anche grazie a lui, che ti sbloccava partite difficili, e altrimenti chiuse, e anche su Vlaovic ripeto, quello che l'accessione a livello economico sia stata importante, sia stata una cifra molto consistente, nessuno lo mette in dubbio, il fatto è che secondo me andare a cedere un giocatore di quel tipo a gennaio, alla tua rivale storica, alla fine del mercato, sostituendolo con Cabral, può essere un'ottima operazione economica, specie se fai il confronto tra soldi incassati e spesi per il diretto sostituto, dal punto di vista tecnico e anche da tifoso, credo che chiedere che piaccia sia un po' eccessivo, o quantomeno chiedere che piaccia dopo 20 secondi che è stata fatta, insomma almeno il tempo di razionalizzarla, detto questo domani ci sarà la conference contro Riga, io piazzerei in campo giovani, anche riserve Primavera, Bianco, Favasuli, va bene, se perdiamo cazzi nostri, perché sarà un nostro demerito, però penso insomma che quanto meno il turnover visto Udine contro Riga, tu lo possa per certi versi lo debba fare, anzi se vedo dei titolari in campo dall'inizio mi incazzo, mettiamola così, e sul resto niente da dirvi, vediamo come andrà stasera, vediamo il resto, aspetto i vostri commenti, lasciatemi i vostri commenti, cosa ne pensate su tutto, un caro saluto, a presto, ciao ragazzi!